Il partito democratico mi sembra che stia mostrando secondo alcuni una tragedia, sentivo l'ex sindaco di Milano, una tragedia si frantuma il partito democratico, insomma io non la vedo affatto una tragedia per la politica del nostro paese, quello che vedo in questi giorni mi sembra più una commedia all'italiana, però senza la simpatia dei protagonisti che caratterizza la commedia all'italiana, devo dire un panorama abbastanza desolante per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, che ha molto poco di sinistra, qualcuno ha cercato di dire qualcosa di sinistra all'interno del PD, però subito poi viene un po' risucchiato in quelle dinamiche che ti fanno dire tutto il contrario di tutto nell'arco di 24 ore, vediamo se ci sarà la scissione o non ci sarà, mi interessa davvero molto poco.